Di nuovo buongiorno a tutti, ringrazio ancora tutti voi che partecipate al seguente webinar. Oggi cercheremo con il collega l'ingegner Samuele Perni di poter dare un contributo a quanto sino ad oggi si è riscontrato nello scambio di informazioni tra un modello BIM strutturale e il calcolo. In poche parole, tra l'interoperabilità o lo scambio di informazioni, tra chi deve calcolare la struttura e il vecchio disegnatore, oggi BIM specialist. In particolar modo, io personalmente vi darò alcune indicazioni in merito al BIM strutturale come Tecla Structure. Il collega l'ingegner Samuele Perni entrerà un po' più nella problematica e nei concetti da tenere ben presenti affinché il tutto possa funzionare al meglio. Poi andremo a evidenziare la differenza tra i vari link diretti piuttosto che approcci simili, le varie caratteristiche del dialogo tra un software BIM e un software FEM Allora, per quanto riguarda la registrazione del webinar, ricordo a tutti che dopo qualche giorno, circa una decina di giorni dall'evento, Tutti i nostri webinar li troverete nell'area di YouTube di Arpaceas, dove saranno tutti registrati. Nel caso in cui qualcuno di voi non dovesse ritrovare il link o quant'altro, non esitate a inoltrarci la richiesta, ci attiveremo per darvi risposte in merito. Allora, magari ne approfitto di questa domanda, nel caso in cui ci siano domande in merito all'evento, vi chiedo di utilizzare proprio l'area domande e risposte e non la chat. Bene, due parole veloci su Arpaceas per chi non dovesse ancora conoscerci. Oramai sono più di 30 anni che Arpaceas è nata, siamo più di 65 colleghi, la maggior parte tra ingegneri, architetti e qualcuno diplomato come me, che seguono tutto il nostro parco clienti. Arpaceas principalmente si è sempre occupata di software per il mondo delle costruzioni e infine da tantissimi anni ha sempre più affiancato l'idea di aiutare a implementare il BIM a tutti i propri clienti con una formazione anche specialistica. Per quanto riguarda il software BIM che Arpaceas propone, vediamo qui alcune soluzioni come Tecla Structure per quanto riguarda BIM strutturale, piuttosto che soluzioni come DDS BIM impiantistico, Alplan BIM architettonico, piuttosto che Nova Point e Trimble Quantum per quanto riguarda infrastrutture. Poi abbiamo software per la gestione dell'informazione come per esempio Solibri, piuttosto che CoBuilder o Dirofus o per quanto riguarda la gestione del cantiere StreamBIM. Ricordo che chiunque di voi volesse approfondire l'argomento su alcune di queste soluzioni non esiti a scriverci per poi dopo farvi contattare direttamente dei colleghi che seguono la divisione piuttosto che la soluzione. Oppure abbiamo soluzioni come il famoso CDEcom, Data Environment o ACDAT come Trimble Connect per quanto riguarda opere puntuali piuttosto che strutture o opere infrastrutturali come quadri o per il mondo architettonico BIM+. Trasversalmente tutte queste divisioni e queste aree abbiamo la mix reality e anche realtà aumentata con il device Trimble XR10. Infine non per ultimo ma ci si è sempre occupati per quanto riguarda il discorso del calcolo strutturale e calcolo geotecnico rispettivamente con MIDAS, MODEST e XFINEST nelle aree da noi seguite e poi per quanto riguarda invece il calcolo geotecnico con Paratie, FLAC e UDEC. Arpaceas ha una serie di partner sia istituzionali che commerciali, questi ultimi per ovvi motivi di proposte come soluzioni o tool per approcci di BIM autoring. Le prime invece istituzionali per poter diffondere, far conoscere sempre più l'approccio BIM piuttosto che l'interoperabilità o alcune interoperabilità con software per esempio del mondo impiantistico e via dicendo. Oppure per quanto riguarda il Politecnico di Milano ma così come tante altre università per quanto riguarda i master sul BIM o sulle costruzioni. All'interno di Arpaceas abbiamo un'area che si occupa di implementazione di servizi BIM quindi aiutiamo il cliente a poter diffondere internamente la propria conoscenza del BIM o per tutti coloro che dopo aver fatto una determinata formazione hanno voglia di certificarsi è possibile fare questa certificazione essendo Arpaceas organo di valutazione presso i CMQ e quindi possiamo conferire la certificazione per BIM manager, le figure professionali come BIM manager, coordinator, specialist o CDM manager oppure la famosa SG BIM per l'intera società. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni in merito o tramite la nostra BIM Vision con il QR code potete tranquillamente approfondire. All'interno di Arpaceas è sempre assistita quest'area BIM Development Center che si occupa di ascoltare le richieste del cliente per affiancare personalizzazioni software sviluppate ad hoc su esigenze del cliente per ottimizzare dei risultati come riduzione di tempi o automatizzare dei flussi. A questo punto parliamo di BIM strutturale come Tecla Structure. Tecla Structure è un modellatore multimateriale, il più utilizzato non solo in Italia ma anche a livello mondiale. Inizialmente era conosciuto molto per il discorso dell'acciaio, infatti si chiamava X-Steel ma da tantissimi anni è molto utilizzato per quanto riguarda il mondo del CA, sia CA che CAP. Perché? Perché è un modellatore che permette di sviluppare l'idea così come i ragazzi o i bambini per meglio dire si divertono con le costruzioni a modellare qualunque cosa gli possa venire in mente in questo caso il progettista o chi dà supporto per costui ha la possibilità di poter rendere modelli costruibili con un minimo sforzo grazie a tutto il lavoro che c'è dietro al software Tecla Structure sia dall'area di modellazione che di disegnazione fino anche a quella di produzione. È un software che è molto vicino alle richieste dei clienti perché come vi dicevo aiuta proprio con semplici utilizzi di comandi o automatismi a realizzare qualunque tipologia di struttura. È un approccio aperto proprio perché è interoperabile, è già nato IFC, chiamiamo così il software ma grazie a continui implementazioni della programmazione come le tecla OpenAPI.NET di Microsoft è possibile poter trasferire qualunque tipo di informazioni da Tecla Structure a altri software e viceversa. Il software Tecla permette di poter realizzare dalla fase iniziale quindi di concepto al fino anche all'ASIS vedete qui utilizzare ancora l'Od dell'americana come l'Od 500 oppure multimateriale come vi accennavo e la cosa importante è che segue il progettista in ogni fase del progetto. Inoltre è disponibile in 17 lingue e 32 ambienti. Quindi possiamo modellare acciaio, settato in opera piuttosto che prefabbricati o anche legno piuttosto che metal light frame, strutture leggere che vanno molto negli ultimi tempi. Per chiunque dovesse investire nell'affiancare una licenza Tecla Structure al proprio ufficio tecnico oggi come oggi la politica è solo in subscription, non più licenze permanenti e in quest'unica voce di subscription il cliente ha incluso non solo l'utilizzo del software per il periodo in cui va a noleggiare o ad anno solare ma può anche, cioè è incluso, scusatemi, il supporto tecnico piuttosto che quindi l'assistenza, gli aggiornamenti, la possibilità di poter ricevere qualunque nuova versione e in più è incluso anche il Trimble Connect che poi dopo riprenderemo. Perché affiancare il software come Tecla Structure all'interno della propria realtà? Perché è un software che mi permette di poter passare da un approccio tradizionale quindi 3D tipico, a un approccio di modello veramente costruibile qui è un esempio di alcuni elementi, di alcuni item elencati che servono da alcuni all'impresa, alcuni al produttore, alcuni a chi dovrà montare come vedete tutti gli attori che vi prendono parte della progettazione necessitano di queste informazioni grazie a questo Tecla Structure permette di avere in tempo reale queste informazioni e nel caso in cui ci dovessero essere varianti, modifiche o imprevisti grazie a un approccio parametrico del software è possibile adattare la situazione e ricalcolare in tempo reale o riaggiornare in tempo reale tutte le tavole questo è il supporto che il software Tecla Structure può dare a chiunque dovesse affiancarlo alla propria attività durante il ciclo di vita del progetto partendo dall'inizio in ogni singola fase può esprimere il massimo delle potenzialità grazie alla licenza Tecla Model Sharing è possibile poter lavorare due o più persone su uno stesso modello in orari o luoghi differenti grazie a una sincronizzazione avanzata di questa licenza Tecla Model Sharing abbiamo realtà con 60, 80 ma anche oltre utenti connessi ognuno lavora per la propria competenza, per la propria area, per il proprio center line per poi sincronizzare il modello in automatico infine come vi accennavo tutte le versioni di Tecla Structure includono oltre lo stesso software anche una licenza di Trimble Connect Business software che permette di poter sfruttare tutte le potenzialità di un CDE e in più grazie alla certificazione ISO 27001 permette di poter gestire tutti i dati con una certa tranquillità e riservatezza ok perfetto allora appunto come dicevamo l'obiettivo sostanzialmente è quello di creare una sorta di ponte di collegamento tra questi due ambienti che sono appunto l'ambiente di BIM Outoring Strutturale appunto rappresentato da Tecla Structure e un software di calcolo strutturale quindi uno software di calcolo FEM come si realizza questo ponte? diciamo il link che c'è, che tipo di link è, quali sono i vantaggi, quali sono le difficoltà e soprattutto quali sono i benefici che un approccio interoperabile BIM-FEM può portare partiamo un attimino dal concetto basilare il calcolo FEM sostanzialmente è un calcolo che viene eseguito al fine di capire il comportamento strutturale e a quel punto poi fare una verifica, un progetto strutturale quindi il livello informativo del modello nell'ambiente FEM è un livello informativo più, diciamo, minore come livello informativo rispetto a quello del BIM strutturale su questo sicuramente non ci sono dubbi noi siamo interessati al modello, agli elementi finiti che in generale viene poi ricondotto in un sistema, diciamo, matriciale una matrice di massa rigidezza che costituisce quindi la conversione matematica del modello BIM come è costituito di fatto un qualunque software FEM sia esso MIDAS o sia esso MODEST? è costituito sostanzialmente da quelle che sono tre parti tra di loro integrate una parte, diciamo, di modellazione, un sistema di pre-processing che serve alla costruzione del modello geometrico chiaramente agli elementi finiti poi abbiamo il solutore agli elementi finiti che calcola, quindi risolve il sistema matematico delle matrici al fine di ottenere poi quelli che sono i risultati come deformate e sollecitazioni e poi abbiamo la fase di design o post-processing quella proprio ingegneristica che punta all'ottenimento delle armature o sostanzialmente delle verifiche sulla base di questa classificazione il link, diciamo, che c'è tra il BIM e il FEM si ricollega proprio su quelli che sono sostanzialmente tutti e tre gli aspetti in particolar modo il primo e sicuramente poi alla fine anche il terzo il secondo è chiaro che è una cosa che compete prevalentemente, diciamo, a quello che è l'ambiente FEM allora, l'ambiente di modellazione o pre-processing sostanzialmente è strettamente connesso al solutore agli elementi finiti tutti i software di calcolo strutturale prendiamo ad esempio MIDAS che compare nella prima immagine a sinistra in alto o MODEST sono costituiti da ambienti grafici di disegno cioè noi sostanzialmente possiamo costruire in MIDAS o in MODEST il modello ad aste, a BIM, a muri, a solette, a platee direttamente all'interno del nostro ambiente già in passato, appunto, come prima diceva il collega c'era la possibilità di importare anche DXF o DVG, 2D, 3D quindi diciamo che la fase di modellazione è sempre stata una cosa che può essere fatta anche nel software FEM poi c'è il solutore il solutore è una cosa che chiaramente fa rigorosamente parte del software FEM che esegue sostanzialmente il calcolo a questo punto dov'è il guadagno di utilizzare un link che può essere diretto o indiretto tra BIM e FEM? sicuramente nella parte a sinistra di questa slide cioè noi possiamo utilizzare il link e quindi importare il modello diciamo dal BIM direttamente nell'ambiente FEM bypassando quella che è la fase di modellazione quindi è una operazione sempre più diffusa quella di utilizzare l'ambiente BIM come ambiente alternativo di pre-processing al solutore FEM questo è un metodo assolutamente moderno, originale che è estremamente efficiente nella ottimizzazione di quelli che sono i tempi quindi salteremo quella che è la fase di modellazione pre-processing direttamente importando il modello all'interno diciamo dal BIM all'interno dell'ambiente FEM come può avvenire questo ponte? allora su questo sicuramente diciamo ci sono diversi aspetti da considerare innanzitutto il primo approccio che è quello preferibile soprattutto in un approccio cosiddetto open BIM è quello diretto vale a dire creare un link bidirezionale tra il modello BIM e il modello FEM che può essere poi anche inverso quindi ripassare poi delle informazioni dal modello FEM al modello BIM questa è la scelta diciamo per certi aspetti migliore perché sostanzialmente nel caso in cui ci sia questo dialogo diretto facilita molto la gestione diciamo informativa nel caso in cui comunque questo link diretto non fosse possibile è chiaro sostanzialmente che questo passaggio che fa parte della interoperabilità generale che ormai nel mondo delle costruzioni nel mondo della filiera delle costruzioni si sta adottando è quello di utilizzare oltre a DXF e DVG che tutti noi conosciamo il formato neutro standard che è l'IFC che permette il passaggio diretto del modello all'ambiente FEM o sostanzialmente anche altri ambienti BIM e l'IFC sostanzialmente ha un, vedremo poi, è diviso in diversi subset e può essere molto utile trasferire quando il tool di calcolo lo permette quello che è il cosiddetto analysis domain che è quello poi inerente al FEM poi abbiamo i formati IGES e STEP che invece riguardano sostanzialmente modellazioni molto molto complesse che riguardano oggetti solitamente non parametrici ecco qua, diciamo che la differenza sostanziale sempre in questa, diciamo, contrapposizione tra destra e sinistra nelle slide è una modellazione di oggetti 3D con la loro volumetria, con il loro materiale, con la loro sezione e la loro geometria che fanno parte dell'ambiente BIM a quelli che sono gli elementi finiti perché noi di fatto, pur essendo comunque parametrico quello che ci interessa è lo schema agli elementi finiti già da questa slide si vede come si può effettuare questo passaggio l'elemento fondamentale è sicuramente il fatto che l'ambiente BIM deve avere al suo interno il cosiddetto modello di analisi o analysis domain cioè la possibilità nell'ambiente BIM è già di riconoscere l'unifilare associato che costituisce quello che è lo schema agli elementi finiti che poi verrà sostanzialmente trasferito su questi aspetti poi adesso andremo a dire un attimino come ci si ragiona cioè nei termini delle problematiche che sono relative a questo aspetto ecco qua, passiamo quindi da un modello BIM 3D a un modello FEM che è sempre 3D ma concettualmente diverso perché il livello informativo che viene trasferito è diverso non tutto deve essere trasferito e soprattutto non mi interessa di fatto trasferire tutto oltre a essere poco conveniente da me serve solo nel modello FEM quello che è il sistema strutturale che lavora per quanto riguarda i carichi statici e sostanzialmente dinamici il link diretto quindi si basa sostanzialmente sulla possibilità di andare ad individuare all'interno del nostro diciamo modello del nostro schema tridimensionale quello che è l'unifilare associato quindi da una composizione di oggetti 3D andiamo a ricavare l'unifilare che sarà quindi lo schema delle elementi finiti che viene sostanzialmente trasferito questo è reso possibile dal fatto che se i due software si parlano cioè c'è questo link diretto è possibile scrivere quello che è il file diciamo di input del tool FEM nel linguaggio proprio proprietario dal BIM direttamente al FEM in maniera tale sostanzialmente che parlano quella che è una lingua diciamo così comune altro aspetto fondamentale è che il modellatore BIM in questo caso tecla permette di riconoscere in anteprima di vedere quello che è il modello di analisi quindi o costruisco ragionando come dal punto di vista costruttivo il modello BIM ma allo stesso tempo posso vedere quindi criticamente analizzare il modello FEM che si viene sostanzialmente a creare e quindi gestire il corretto posizionamento degli oggetti gestire quelli che sono gli eventuali offset gestire il rispetto della congruenza dei nodi la posizione dei fili fissi perché di fatto l'approccio e l'organizzazione del modello è sostanzialmente diverso quali sono infatti le criticità sui quali nei link diretti dobbiamo porre attenzione innanzitutto il filtraggio degli oggetti non tutti gli oggetti devono essere trasportati perché alcuni oggetti non hanno una funzione strutturale hanno una funzione costruttiva hanno una funzione diciamo più legata a aspetti architettonici aspetti costruttivi di cantiere eccetera per cui per esempio i tirafondi non è necessario andarli ad importare direttamente nel software FEM quindi questo aspetto qua di filtraggio degli oggetti che non vanno riconosciuti nel modello di analisi è uno degli aspetti fondamentali che il software di beam autoring strutturale come Tecla Structure deve mettere a disposizione in maniera tale che io esporto ciò che mi serve perché altrimenti andrei a complicarmi la vita poi all'interno del tool di calcolo poi c'è il discorso della congruenza dei noti sappiamo benissimo che nei software FEM modest o midas noi in corrispondenza di ogni intersezione tra travi e pilastri dobbiamo avere un nodo questo perché il sistema deve essere un sistema a elementi finiti congruente questa cosa qui in realtà non accade nel software di beam autoring strutturale per cui un pilastro è pilastro dall'inizio fino diciamo alla quota del roof non c'è una suddivisione in corrispondenza degli impalcati sappiamo bene che se esportassimo una configurazione del genere nell'ambiente FEM il midas e il modest ci darebbero tutta una serie di warnings per cui il sistema risulta labile quindi attenzione al riconoscimento e a garantire la congruenza tra quelli che sono i nodi inoltre nel momento in cui c'è l'ingombro tra porzioni che si intersecano è fondamentale che l'ambiente di beam autoring che costruisce il modello di analisi sia in grado di garantire quella che è la continuità e la congruenza attraverso la creazione di quelli che sono i cosiddetti link rigidi che poi possono essere anche questi controllati, settati vedendo quello che è il posizionamento dei fili fissi che adesso vedremo che è il terzo punto però anche qua quindi è chiaro che eventuali offset che sono solo di natura geometrica non è detto che poi siano veramente relativi al modello FEM per cui il punto qui sicuramente su questa slide fondamentale è il discorso dei fili fissi e scostamenti è chiaro che dal punto di vista costruttivo noi abbiamo un determinato diciamo allineamento tra i vari elementi e dobbiamo importare solo quello che è logico dal punto di vista dell'analisi FEM per esempio qui nello schema reale BIM si vede chiaramente che le quote superiori diciamo dei pilastri coincidono con la quota di estradosso dei solai e idem chiaramente quello delle travi questo è corretto dal punto di vista del BIM dal punto di vista del FEM può essere corretto ma vedete bene che giustamente nella zona di sovrapposizione il software BIM giustamente ha creato un link rigido di connessione lungo quella che è la direzione degli assi per garantire la congruenza quindi anche questo aspetto qui diciamo è giusto ma se ne terrà conto poi nel software FEM in cui ci sono questi link discorso diverso per la seconda immagine in questo caso è quella classica cioè è quello che avremmo fatto nel software FEM cioè posizionare gli elementi rispetto ai loro assi baricentrici quindi rispetto a quelle che sono gli assi medi baricentrici rispetto all'estradosso del solaio questa cosa qui per esempio è corretta nel FEM per esempio nel BIM no perché è chiaro che se poi andassimo a fare disegni delle carpenterie verrebbero diciamo un po' diciamo non corretti la terza opzione invece è proprio quella più generale in cui c'è il rispetto dei costruttivi di carpenteria da BIM i fili fissi però sono posti tenendo già conto del modello FEM quindi diciamo rispetto agli assi baricentrici inoltre quindi ci sono i link rigidi inoltre il cambio di sezione introduce anche degli offset sezionali quindi attenzione che qui il nodo è caratterizzato da una certa diciamo una certa concentrazione di link rigidi per i quali dobbiamo porre molta attenzione perché sappiamo benissimo che possono determinare diciamo delle sollecitazioni spurie legate ai momenti di trasporto che si hanno soprattutto se c'è l'impalcato rigido quindi queste sono tutte cose che noi possiamo vedere direttamente nell'ambiente BIM perché ci fa vedere il modello d'analisi che verrà trasferito e sul quale noi criticamente attraverso quelle che sono le varie opzioni di filtraggio le varie opzioni diciamo che ci consente dobbiamo comunque controllare validare prima di esportarlo nell'ambiente FEM poi altre criticità è il discorso per esempio sulle superfici e la dei curvilini è chiaro per esempio che nel caso di monumenti nel caso di cattedrali o opere anche industriali eccetera è normale che ci siano degli elementi curve o delle superfici bidimensionali curve che sono degli elementi tipici dell'ambiente BIM ma non esiste nell'ambiente FEM un elemento finito curvo e allora come si fa? bisogna per forza diciamo discredizzarlo cioè schematizzare l'elemento curvo come una successione di aste rettilinee o come una successione di aree che sono sostanzialmente rettilinee che vanno a ricostruire diciamo quello che è l'andamento curvo quindi ecco un altro aspetto è sicuramente questo poi altro aspetto importante è la gestione muri setti e lame di taglio nell'ambiente BIM è facile perché andiamo a costruire un elemento un macroelemento e utilizziamo quello nell'ambito FEM allora qui per esempio se stiamo in MIDAS allora diciamo che possiamo esportare quella che è un'area che è più general purpose MIDAS e a quel punto andare a discredizzare a mesciare quell'area lì con tutte quelle che sono le regole tipiche degli elementi finiti quindi il grado di raffittimento un rapporto di forma tutte cose che competono al software FEM quindi diciamo che possiamo esportare un'area o se il software non lo concede possiamo esportare un perimetro di aste fittizie che definiscono un'area che poi vado a mesciare nel software FEM nel caso di MODEST per esempio su questo soprattutto per quanto riguarda le pareti verticali il vantaggio è un po' maggiore perché MODEST ha già implementato al suo interno un macroelemento che viene chiamato muro rosso comunemente che costituisce la lama di taglio vera e propria quindi lì forse il passaggio è anche più facile perché uno esporta direttamente un macroelemento in un altro macroelemento dipende dai tool del software di calcolo e poi c'è il discorso della gerarchia non il discorso questo qui è chiaro non tutti gli elementi sono elementi primari per il sistema FEM alcuni sono elementi secondari che fanno parte dell'ambiente BIM come per esempio le connessioni su travi e pilastri per esempio nelle strutture in acciaio ma che non hanno poi una valenza strutturale nel modello FEM quindi anche questo dobbiamo diciamo controllare la gerarchia tra i vari elementi che si vengono a creare nel modello di analisi le potenzialità quindi richieste dal link diretto BIM FEM quindi in questo caso partiamo da tecla ed esportiamo verso MIDAS o verso MODEST è appunto questo il link la possibilità di controllo diretto che l'utente deve avere sul modello di analisi che viene esportato e soprattutto un report cioè uno strumento di validazione che mi dice se l'esportazione sta andando a buon fine se alcune cose sono esportate o alcune cose non sono esportate mi raccomando perché banalmente anche materiali sezioni nell'ambiente BIM hanno una funzione geometrica poi diventano invece elementi di calcolo nel modello FEM perché definiscono le masse il peso le proprietà inerziali le potenzialità non richieste o perlomeno se c'è la possibilità bene ma non è obbligatorio è per esempio l'assegnazione di vincoli o l'assegnazione di forze e di carichi direttamente nell'ambiente BIM si può fare ma quando il livello di specificità è molto alto vi ricordo che queste operazioni qui è meglio farne nell'ambiente FEM che nasce proprio per quello perché è chiaro che se vogliamo modellare molle suolo elastico lavelinker carichi distribuiti carichi trapeziotali è chiaro che se il livello di complessità aumenta è meglio farlo nell'ambiente FEM questo è sicuro quando il link diretto non c'è o comunque sostanzialmente vogliamo sempre in un'ottica di open BIM operare su software che hanno diciamo un palcoscenico diverso tra i diversi ambienti allora possiamo far riferimento all'IFC l'IFC prodotto dalla Building Smart è un formato open assolutamente aperto e neutro come si dice che permette di esportare direttamente quello che è il modello dal FEM al BIM dal BIM al FEM dipende sostanzialmente dai vari diciamo dai vari protagonisti diciamo di quella che è l'interoperabilità e il livello informativo in questo caso è estremamente ampio in particolare sicuramente il discorso dell'IFC può essere utile lo vedremo poi tra poco anche per quanto riguarda il cosiddetto nella fase di post processing cioè esportare nel BIM direttamente quelle che sono le armature per esempio che vengono progettate nel FEM quindi questo è uno degli aspetti sui quali sicuramente c'è margine di crescita c'è margine di sviluppo per rendere il collegamento tra BIM e calcolo ancora più importante ancora più efficiente queste sono delle immagini rappresentative appunto del Modest e della possibilità di esportare le armature direttamente nell'ambiente BIM la struttura diciamo dell'IFC poi lo vedremo con un esempio con il Ponte Arno è sostanzialmente caratterizzata da diversi livelli informativi che vengono suddivisi in subset il primo è l'IFC Coordination View che dà delle informazioni di tipo architettonico e poi c'è l'IFC Analysis Structural Domain che è quello che appunto adesso stiamo controllando che è quello più interessante dal punto di vista del calcolo FEM per cui se il tool lo consente l'opzione migliore sarebbe quello di esportare l'Analysis Domain dell'IFC e questo sicuramente l'aspetto in qualche modo più importante quando vogliamo invece lavorare in termini di modellazioni estremamente complesse quindi opere che diciamo elementi strutturali monumentali eccetera cioè elementi non parametrizzabili allora possiamo fare riferimento a formati di scambio non parametrici come l'AIGES e lo STEP che sono sostanzialmente dei formati in cui quello che viene esportato in queste geometrie complesse di fatto è solo quella che è il piano medio di questi elementi bidimensionali che hanno un loro spessore queste sono immagini tratte dal MIDAS NX che è il modellatore geometrico appunto tipico del MIDAS i vantaggi di quello che è il discorso dell'interoperabilità BIM e calcolo ve lo mostrerò adesso con due esempi pratici molto molto rapidamente allora il primo fa riferimento a un proof of concept come lo chiamiamo noi nel senso che è un diciamo progetto che è stato fatto sul ponte sul fiume Arno località Labotte che ha previsto la digitalizzazione del bridge asset questo sostanzialmente era un lavoro diciamo in seguito a quello che è l'emanazione da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici che ha emanato le linee guida per la classificazione e gestione del rischio la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei punti esistenti in sostanza l'obiettivo è quello di determinare la classe di attenzione per le infrastrutture quindi asset infrastrutturali la verifica della sicurezza delle infrastrutture come? con l'approccio del BIM l'obiettivo del BIM che in questo caso è su un esistente quindi non solo sul nuovo che magari è più intuitivo farlo ma sull'esistente quindi partire da un modello BIM strutturale di un edificio esistente quali sono i passaggi? innanzitutto il gestore deve identificare tutti gli elementi costituenti il ponte i dati di basse fare una modellazione BIM classificare vari oggetti quindi qua vedete un attimino adesso l'immagine del ponte con gli elementi tipici diciamo che lo costituiscono si può avvalere e questo è importante per quanto riguarda l'esistente da parte della fotogrammetria digitale quindi nuvola di punti laser scanner questa è un'immagine bellissima di ricostruzione diciamo dello stato di fatto del ponte con il tecla structure quindi vedete come la ricostruzione è assolutamente precisa per l'ottenimento del modello del BIM strutturale sull'edificio esistente a questo punto c'è la modellazione quindi una georeferenzazione del ponte modellazione in tecla structure delle diverse parti quindi correnti piedritto palle di fondazione elementi secondari come traversi e poi il modello di analisi che è quello che poi andremo ad esportare che serve per il calcolo strutturale direttamente fatto quindi è importante qui l'aspetto del dati di rilievo dati topografici DTM del terreno dati QGIS fotogrammetria digitale ecco che quando parliamo di BIM strutturale applicato all'esistente sia esso infrastrutture che edifici esistenti questi concetti iniziano ad essere importanti questi qua sono le immagini relative alla modellazione poi anche delle armature quindi dei dati provenienti dal 2D dai rilievi in campo e a quel punto dobbiamo esportarlo nel nostro ambiente di calcolo come è stato fatto in Modest e questo trasferimento di dati può essere fatto sia attraverso il formato aperto EFC o con il formato proprietario e il link diretto perché tecla e Modest sono collegati c'è la possibilità di esportare sia l'analisi domain che già permette di esportare un modello agli elementi finiti congruente sezioni materiali eccetera quindi anche con eventuali svincoli e carichi e poi l'IFC coordination view che invece sostanzialmente è più generale come dicevo prima e la concorrenza va ripristinata manualmente però dopo nel software di calcolo oppure il link diretto è chiaro che se scegliamo un software BIM autoring strutturale come tecla e un software di calcolo come Midas e Modest è chiaro che c'è il link diretto e quindi questo passaggio avviene senza nessun tipo di problema minimizzando quella che è la probabilità di errore e poi una volta importato facciamo l'analisi FEM le verifiche e il calcolo dell'indice di rischio un altro esempio che ha visto sempre il collegamento tra FEM calcolo diciamo e l'ambiente BIM riguarda una galleria quindi ha anche l'aspetto geotecnico questo è stata fatta con la provincia di Trento è un lavoro con l'Università di Trento e la provincia di Trento per il collegamento stradale Passo San Giovanni in località Credaccio e questa è stata un diciamo importante lavoro di interoperabilità che addirittura ha ampliato il discorso non solo tra BIM strutturale FEM calcolo ma anche con il contributo della del Nova Point quindi del modellatore infrastrutturale per quanto riguarda il tracciato la modellazione geometrica degli scavi e quindi della facilitazione dello scavo in Rhino che è un modellatore geometrico importando tutto in tecla e il tecla ha permesso di diciamo disegnare e quindi modellare 3D i rivestimenti della galleria importare tutto nell'analisi nel FLAC 3D che è il software di calcolo geotecnico quindi un software comunque di calcolo e modellare quindi il terreno e simulare lo scavo vedere i cedimenti e dove c'era un maggior riscontro dei cedimenti modificare le tipologie strutturali di rivestimento fatte in tecla quindi era un lavoro assolutamente interoperabile con diverse opzioni progettuali e quindi una modifica proprio del progetto in corso d'opera sulla basse dei risultati che l'analisi FEM dava tornando praticamente indietro questo era proprio un esempio che ho voluto portare di interoperabilità possiamo definirla quasi a 360 gradi in diversi aspetti sia infrastrutturale geometrico strutturale con tecla e poi calcolo geotecnico quando invece un'altra opzione che è possibile è un discorso di collegamento FEM BIM sicuramente la bidirezionalità che come dicevo prima è uno degli aspetti salienti della interoperabilità ha un ruolo fondamentale perché io posso fare delle modifiche nell'ambiente FEM perché magari le verifiche non tornano quindi devo cambiare una sezione devo cambiare una luce libera di una trave e quindi farle recepire sostanzialmente a quello che è il software di BIM autoring strutturale come tecla oppure potrei anche partire in quella che viene definita la cosiddetta costruzione dal basso cioè nel caso fosse possibile soprattutto con gli FC modellare dall'inizio il modello nel FEM e poi importarlo nel BIM ma attenzione perché lì passiamo da un ambiente virtuale che ha un livello informativo più basso quindi più contenuto a uno che ha un livello informativo molto più alto quindi diciamo che ci sono una serie di aspetti come per esempio la discretizzazione come l'assegnazione dei vincoli che poi dopo vanno particolarizzati nell'ambiente di BIM autoring quindi anche quando è possibile attenzione perché poi ci sono in termini di efficienza una serie di elementi da controllare quindi in generale soprattutto quando parliamo di link diretto conviene sempre comunque partire dal BIM passare al FEM e eventuali modifiche farle poi tornare indietro nell'ambiente BIM quali sono gli sviluppi futuri sicuramente l'aspetto principale è il si gioca sul terzo ambiente che fa parte del mondo FEM ovvero la fase di post processing cioè la fase di verifica e di progetto è fondamentale e questo è sugli aspetti sui quali stiamo sostanzialmente tutti noi lavorando e che costituisce poi l'orizzonte di sviluppo è quello di esportare creare il collegamento diretto non solo sul modello o su tutta quella che è la parte architettonica ma sulla fase poi di post processing cioè io faccio il modello FEM progetto l'armatura questa è un'immagine trattata da Modest quindi io ho l'armatura la carpenteria delle armature delle staffe sia per elementi 1D che per elementi 2D e voglio esportarla direttamente nell'ambiente BIM in maniera tale da avere subito oltre a quella che è la parte dei computi eccetera anche i disegni con le armature precisamente posizionate questo è un aspetto importante chiaramente dipende dai tool di post processing di progettazione che ha il software FEM quindi nel caso di Modest facciamo una verifica che è su tutto l'elemento nel caso di Midas facciamo delle verifiche sezionali quindi anche lì il passaggio però questa è su diciamo la direzione su cui si stanno concentrando gli sviluppi cioè la fase di esportazione delle armature quindi rendere poi il progetto e il ciclo completo quindi concludendo quali sono le trasformazioni che i link diretti e l'utilizzo del BIM calcolo possono sostanzialmente permettere e mettere in atto sicuramente ci sono diciamo c'è stato un passo fondamentale nel passaggio dal CAD al BIM adesso attraverso diciamo questi elementi sta cambiando la cultura della progettazione e i primi e i tre principali cambiamenti in atto sono innanzitutto che si sta spostando il processo di progettazione da un processo lineare passo passo a uno più iterativo e collaborativo quindi diciamo che possono essere fatte delle modifiche istantanee e che riguardano più piattaforme quindi l'esempio possiamo dire della galleria di prima è un emblema cioè io posso modificare facilmente tutti i passaggi poi la visione si sta ormai siamo entrati in una visione assolutamente 3D e poi non più 2D e sicuramente anche dove in quale fase si stanno più concentrando gli sforzi cioè adesso la progettazione le informazioni e tutte le diverse ipotesi progettuali sulle quali poi noi andiamo a verificare l'attendibilità o la fattibilità sono fatti nella fase iniziale e non nella fase finale quindi questo è un altro aspetto che il link e diciamo l'approccio BIM applicato al calcolo FEM sicuramente sta apportando questa slide è importante perché queste rigadute stanno comportando una diversa distribuzione del lavoro nella fase di progettazione come vedete prima si sta facilitando la possibilità di avere in questo discorso di interoperabilità più opzioni quindi possiamo sostanzialmente fare più analisi ingegneristiche valutare più opzioni progettuali e valutando tempi e costi e fare delle modifiche in corso d'opera più facilmente perché come vedete tra l'approccio BIM e l'approccio tradizionale sostanzialmente che era quello classico legato sostanzialmente al CAD vedete bene che prima c'era una documentazione infinita ma perché perché il risultato ce l'avevamo alla fine della fase progettuale adesso invece ce l'abbiamo mentre stiamo progettando e quindi anche le modifiche possono essere fatte in corso d'opera ecco quindi che si sta riducendo la fase di cosiddetta documentazione e si sta ampliando con l'approccio di BIM la fase di analisi ma questo è importante perché nella fase di analisi e nella parte grigia sviluppo del progetto rientrano tutte le considerazioni relative ai costi relative al ciclo di vita relative a quelli che sono i tempi di esecuzione a modifiche in corso d'opera quindi si sta andando verso una direzione che è più sostenibile che va proprio a migliorare l'efficienza stessa della fase di progettazione quindi questi sono delle trasformazioni che devono diciamo indicare che la linea da seguire e che diciamo è il futuro poi è proprio questo link diretto BIM e calcolo per tutti i benefici che sostanzialmente sta apportando mettiamo un attimino questo primo video questo qui è un video di qualche minuto che riguarda il link tecla MIDAS quindi facciamolo pure partire questo qua è un modello fatto in tecla come vedete anche molto complesso perché ci sono dei pali quindi c'è una struttura fondazionale ecco qua in acciaio e questo è il modello di analisi ecco vedete che molto facilmente il software riconosce subito il modello è l'unifilare interno che è il modello di analisi e poi ecco qua lo esporta in MIDAS sotto forma di file MGT eccolo qua quindi abbiamo in MIDAS già il modello con i vari unifilari con i vari elementi sostanzialmente interni che diciamo permettono poi successivamente di andare a fare il nostro calcolo FEM eccolo qua quindi poi l'assegnazione dei vincoli l'assegnazione dei carichi viene tutto fatto direttamente nel MIDAS e viene fatto poi il calcolo perfetto vediamo adesso quest'altro esempio invece che è un video del link tecla modest questo differentemente al primo è un edificio in CA anche qui vedete facilmente si riconosce il modello di analisi eccolo qua quindi l'unifilare interno e poi lo andiamo e lo andiamo poi le varie operazioni di filtraggio che possono essere fatte perfetto si sceglie si possono esportare anche elementi 2D ci sono tutte le opzioni possiamo dire per controllare le congruenze eccolo qua andiamo un pochino avanti che velocizzo e a questo punto viene poi esportato ecco qua nel modest il modello eccolo qua direttamente importato nel software modest vedete con i macro elementi 2D che sono automaticamente riconosciuti poi possiamo mesciarli dopo nel modest per esempio perché avrà sicuramente delle opzioni di mesciatura molto importanti e poi andare a effettuare quello che è il calcolo volendo diciamo dei vari elementi con le armature e così via che possono essere poi gestite ecco qua perfetto questa adesso ecco era l'ultima slide relativa alla ai link ringrazio ancora una volta veramente tutti voi grazie a tutti vista l'ora buon pranzo a tutti e buona giornata buona giornata grazie grazie ancora grazie a tutti